e adesso c'è Cristian adesso c'è Cristian che porta il genio della nabbada da Aladin da Aladin e adesso c'è Cristian 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 Ma se dico abbracca da l'abbracca la lingua non sbaglierebbe e dalle dagli occhi che mi schienzo a via e ho preso prese che io ci parlo c'è una nuova buccia di chiarigi e i problemi non gli ecco Grazie a tutti. Grazie a tutti.